acquistare bene i rifugio come per esempio potrebbe essere l'oro, appuntare sui settori difensivi, utility o health care e il mercato è già sceso tanto, torniamo al risk on. Fabrizio, l'oro, volevo focalizzarmi perché tu avevi selezionato il petrolio che è un'altra ovviamente commodity, però l'oro si comporta da bene di rifugio essendo che è a quota 1800 all'incirca, magari uno in questo contesto se lo avrebbe potuto immaginare a quota 2000 dollari. Io l'oro lo utilizzo nei miei portafogli, quando esco dai prodotti azionari parcheggio sull'oro e non sui titoli di Stato perché sapevo bene come sarebbe andato a finire visto che poi i tassi da sotto zero non possono andare a meno 20.